bello a tutti ragazzi siamo ritornati per questo nuovo episodio e io prima di cominciare questo video volevo portervi le mie scuse perchè non ho messo non ho caricato video sul mio sul mio canale youtube perchè sono stato molto impegnato tra la scuola e robe varie e allora io vi prometto che da oggi metterò sempre video gli orari che metterò i video sono luna luna, luna e mezza e poi uno mi sa che uscirà pure alle 7 questo giorno faccio soltanto questo video per porgervi le scuse da domani cominceranno i video oggi io lo giocherò adesso un gioco vi voglio soltanto mostrare il gioco che mi è arrivato che lo porterò nei prossimi giorni ed è davvero di abril di 2012 scusate se è un po' vecchio però questo lo desideravo tanto e mi piace poi vi vi porterò anche i pacchetti di calciatori panini FIFA 16 2015 2016 dove li spacchettiamo insieme vediamo chi ci esce sperando che la fortuna ci aiuta che ci esce qualche giocatore forte io come voi sapete sono il difuso della Juve oppure i diselli della Juve e questo è il labo dei cacciatori panini già l'ho ingomigliato e con voi lo finirò per dirvi che non l'ha fatto iscrivetevi al canale mettete un pollice in su e buona visione bello a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti